ah perchè è difficile come champion guarda beh guarda che non è neanche così banale a parte che usa tanto di quel mana che fa impallidire invece a Renekton ad esempio non lo uso no invece se diventa ancora bravo con Master Yi mi compro l'ultima skin con la cacciatore di testo è Dunter Master Yi no è più bella quella è più bella quella di questa qui ha anche gli effetti questa qui ha anche la spada laser infatti questa qui è la più bella no merda ragazzi mi sono oh qui io ho incastrato la bomba cosa devo prendere Dorans oppure oppure corazze io devo registrare corazze e pozioni come ti builderesti Riven non la build non la build la uccide così provo non so nemmeno cosa ok ragazzi what the fuck no mi si è bugato lol tipo se porto il mouse ai lati dello skin ah si ai lati rossi si e succede con fraps praticamente non puoi registrare fino a quando cioè puoi registrare l'inizio della registrazione lo puoi fare solo mentre carica la partita altrimenti se sei in partita e fai quello eh ti vengono qui eh me ne sono accorto solamente dopo devi andare tipo in opzioni video no 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 hotkeys e andare a cercare forse in display così no l'ho tolto lo faccio la prossima partita mi sono dimenticato quello dovevo fare sempre all'inizio che panno guarda ah questo muovendo ieri finalmente io ho paura davvero qui contro Renekton cosa che fa la mia passiva ah si 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 che fa eh quando attacco riceverò la mia vita eh tipo passiva di di Garen però non quando non vengo attaccato ma quando attacco ah il contrario della passiva di Garen si lui quando quando non attacco quando non viene attaccato esatto invece lei quando attacco un nemico oh 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 il blu il blu il blu il blu il blu tranquillo sei un jungler è normale che ci sia il blu ma dono 87 di a di senza essere nemmeno partito di a di stai fammi delire un boss si muovono insieme a minion ho p io ho paura di questo hackrime burlone mickeypilu burlone basta faccio tutto da solo belloglio ma almeno pochiamo di brutto qua in bot ho appena poi vieni qui perché questo qui mi sta distruggendo no scherzo però fammi almeno arrivare a livello 3 mickeydamage mickeydamage lui oh quando la double è tutto più facile che aveva mai detto una guarda questa e nemmeno io sto vanando vai 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 morto oh yeah good job mickeyburst che abbiamo tutti e due mickey facciamo un bordello di dan da una 13 di regenerazione attaccando madonna si sta fermando a segnalare magari merda merda stava nando si lo so però guarda quanta vita mi ha pure spinto sotto torre ma non credevo facesse più danno regimi la lane se quello la pusha buona farm per me per me per me veramente non intendevo farm intendevo regimi la lane significa anche quello no significa stai indietro madonna tanto morirebbero comunque quindi è meglio se me li faccio io no perché così pushi la lane e quando arrivo lì e l'altro jungler arriva e mi cura no ti cura quello figa veramente la lane è tutta tua ma quel onore ma mi ridai la mia lane ma che onore davvero dai te l'ho indebolito e gli ho fatto sprecare una pozza eh adesso lo vedo che è molto indebolito ha paura di ringaggiare se gli ho fatto sprecare una pozza beh grazie a quella pozza sprecata adesso non entra più paura esatto tutta psicologia ma tu non si si posso pararmi la la W di Renekton gli ho tolto metà più di metà vita lui non è riuscito a togliermi praticamente nulla che figata è sempre difficile da da timare sto arrivando botte eh vedi ho fatto due combo non ho più mana sono botte contro questo madonna ma deve starsi ferro non guarda stile minion madonna cattolina sei un cazzo di genio arrapato cos'è? sta venendo da te se è carim se grazie almeno se non sta venendo verso i dito è venuto in quella direzione sto farmando anche più di Renekton oh io adesso faccio un po' male ancora a sto Renekton se quell'hackery mi si è stiflato le mie strighe lo uccido lo tar oh vieni qui per poi che ho la R e l'ignite facciamo da 1 0 a 100 questo tra poco arriverà a livello 6 immagino oh va bene no ecco è carim oh oh sta venendo manco t'hanno attaccato che livello è carim? 5 si 5 se io riesco a farmi pure un minion io sono qua eh si 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 lascia madonna che danno nooo grazie sottosanto vabbè però ti ho fatto fare la kill un paio di minion ma ti hai fatto paura al massimo ma che cosa stai dicendo tutto io ho fatto ho 140 di ad e ho una longsword io stesso non gioco in idea di support non gioco veramente support ma cazzo meno le ward le compro fatti full ap non fatti la side stone ma cazzo almeno una due ward almeno un ma vabbè ma lei mette le trappole si divisioni non danno nulla sommettosi le calpestano primo punto da calpestare si sono facissimi da schivare poi si mettono le ward che vedono le cose invisibili cioè mettono le ward che si mettono le cose invisibili ancora più utile dai che se rientrate avete la kill oh ma voi qua ma ma che cazzo una ward veramente serve questo basta che mi avvicino il cielo ho quasi il doppio della dv renekton lui ha 82 e 150 cioè fra 10 di ad guadagno cioè ho il doppio adesso di partire ma do non ho neanche niente merda ragazzi io vorrò ad arrivare però se arrivano quelli da botto non posso farci una fama eh vabbè però che palle tu tu per perché tu lilli eh per stillare il rosso al jungle ma sicuro di che il jungle sia da qualche altra parte effettivamente piuttosto aspetti lì a me lo aspetti lì va a farsi i buff lo stilli te ne vai ma vedi lo ammazzi mi ce n'è andata ma non tipo bah ma però mi fidano un ally ha stato 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 addio ciccia non si mi dirà non è la ssa top no no invece la ssa è arrivata e poi lei dovrebbe solo aprire gli occhi o wardare al massimo insolent qui Ecclin mi ha colpito molto sotto l'air perciò mi ha spinto solo più avanti il mio di che il mio support io ucciderò quell'Ecarim io ho bisogno giusto per vendetta personale so che tu devi venire cioè tu devi andare sempre su non si può giocare con certa gente merda ma che palle è possibile capisco anche che le world contro un tizio chiamato Ecarim sono inutili perché tipo Sonic però tu metti le provaci mettili un po' più avanti così li va di la prima quel cazzo di Ecarim quel cazzo di Ecarim quella ulti bugata nooo è una ulti allora non uso Dragon Trainer che bella quella skin bugia è puccioso che c'è il draghetto volante sinceramente è così piccolo che non vedo le differenze tra quella normale quello è un mi vai pure sotto torre tanto si lascia vai 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 nooo te lo ho detto e no però cazzo però va bene tutto però le kill mi servono e anche a me tu e tanto del tuo cuore che ti hanno fatto e hai visto quanto l'ho ridotto io sottotorte ma non mi fai te di te sottotore scusa vuoi prenderla kill dopo ti vuoi uccidere io vuoi prenderla kill premendo Q sinceramente la preferisco io primo perchè mi serve secondo perchè mi ero gli ero un momento di ultima cosa sai che tecnicamente il jungle è con un secondo support vero ma soprattutto aveva cento di vita e chi gliela fatti la torre no poi non vi lamentate se dopo non faccio danno eh ma tu lo fai comunque danno no senza kill no sei sicuro? si aspetta che arrivi un teamfight e poi arrivi un teamfight ma che cazzo bot ma che minchia vi fumate no non si può gancare bot e che vuoi da me? cazzo io arrivo manca a provarci a buttarsi non abbiamo stun non abbiamo wall non abbiamo una fava si? ah aspetta le patatine vi devo portare che devo fare? ci stai E' che... C'è qui cosa? Io sto qua Cosa ti aspetti? Quella non ha neanche tanto più Non lo so, la gente arriva senza mettere aping, cosa ti aspetti? Poi l'ultimo l'ho tirata, se quello è rimasto con due di vita non l'ho colpa Ok, ora ho l'ignite Nel 2 della final, buono Oh oh Cazzo Hanno dato tutto per ucciderlo Quanto dura l'ult di Renekton? Porca puttana C'è il blumo, bello Che cazzo gli serve? Meglio che darlo a noi, ovvio Bene, quante chi l'ha? Via, 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 via Mani da lì con la stai cosa che sta massimicando E non... Eh 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 Che cici Veramente siamo si sono da trappola No, era una domanda No perché se no ti chiedevo come hai fatto a venerlo Betta da In the blink of an eye Faccio l'Englage Flash e ulti di Ludo Va bene WTF Eh ma che palle Madonna 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 mia Ma che branco di mango spasso Ci sono Ward Ehi guarda che io sto qua Ti voglio... Voglio gankarti Mortacci sua No non ci sono Ward Cioè ci sono Ward Ma non ci sono i nemici Solo che con Renekton è pallosissimo Questo ha spigliato vita e corazza Adesso sta sotto Toro a farmare Eh poi quelli... I bot manco... Quegli mid non chiamano manco gli SS Che p***o Che p***o Mazzon Lavorire Gioco fammi responare Devo tirargli la ulti in faccia a Vayne Prima che recupera troppa vita Troppo tardi Non è concepibile Quella non Wardla Non fa un c***o Ho preso pure la kill Sono in due qui eh Boh... L'inutilità abbiamo... Abbiamo in... Che p***o Caterina che ha fatto... Cioè... Mi da lì ha fatto la setta differenza di Minion che mi mancavano per raggiungere Vayne Che casualità Ma porca troia Sii un support non devi la stittare È così difficile da concetto Vabbè abbastanza No... Finalmente gli ho preso sta c***o di Toplane Mi ha lasciato due secondi con la Toplane e li l'ho distrutto Io questo col continuo terrore che qualcuno venga a farmi il culo E' guardato lì eh? Si Decisamente Da questa parte Ok va bene Si è fregato piuttosto addosso Un po' Nel presente quanto danno faccio con la Air? Se no sarei anche più sicuro nell'entrare Milux ha 4 kill Caterina non verrà E non guarda Guarda nessuno a parte che sta... Perchè? Qui in bot sono due Ma deve morire Eh mo mi cade la torre bot perchè Adio torre bot Grazie mille Non è così bella che non posso dire neanche la colpa a Diego perchè non poteva fare nulla Era permawordato La il mio non mettevo una ward Sono via Sono via Vorrei farmi con l'arena Credo che c'è una cattività visto che abbastanza Non è fidata semplicemente che il mio support si leva al farm e l'ha avuto tutti Traduzione Invece è piuttosto inutile ma Traduzione Un berkidat Tecnicamente segnato di pochi minion se 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 Dove cazzo vi tagli a lì a sta in i miei due Eh dico io almeno fai Manco io ho un gioco support Cosa Ma almeno quel tipo Napoleone non mo Se passi mo mi cazzo Napoleone mettiti giù Napoleone giuro che se passi mo mi cazzo ti uccido Ti cazzo per la seconda volta Nella madre Ma fa un cazzo quella Q Arrivo La vedo dura con quella Vayne lì La Dana ha fatto un po' di danno con due attacchi Andiamo 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 Ho anche la R adesso Quanto mi dava il doppio? 35 in più di a di Bella lì Porca puttana Peccato Dammi al dammi al puttana E' la prima volta che attaccando un cempo con la Q me ne faccio un'altra Dai 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 facciamo Ho attaccato Vayne con la Q mi sono fatto Lux Torre la torre la torre fatela 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 Sì Non ha farming confronto Però è un tank quindi Ne ne frega niente da farm Cioè dovrebbe però Cioè dovrebbe però Oh venite qui Adesso arriverà qualcuno e io ho un uno contro uno con la R Spacco Che hanno fatto Minion pushate Minion pushate Minion pushate Vedi Minion Vedi Minion Vedi Minion No eh Sta arrivando Ok niente final 2 Perchè no? Sta arrivando Hecarim e Lux Non voglio mettermi in mezzo Io tengo la mid Felice e contento Non me ne ha fatto un cazzo di niente nessuno Saranno al drago Era solo Hecarim al drago Ecco, perciò, no, non si sto facendo Secondo me se lo sono già tolto Uh, adesso con Last Whisper 272 di ad E anche un bel po' di corazza effettivamente Dai 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 Quello che lo fate quando volete Stavo scherzando C'è il mondo lì, ti avverto Io sono spostato Grazie un muro per un motivo Uh, il drago che sto facendo Andate 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 A noi Hecarim in mezzo morto Vai 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 Avevano lo smite Non poteva farci nulla Uno, qualcuno ha uno stun in questo gruppo? No, eh Che cazzo, dove cazzo mi sono lanciato? Abbiamo proprio crowd control Siamo un team di merda E' proprio i team che dovrebbero neanche fare una kill Molto random Ma come? Come? Questa linea di non mi ha curato una volta in tutta la partita Non te lo meri Comunque c'è poco da dire Proprio forte a sto champion Non avevo mai sentito dire nessuno che 306 di AD A 26 Prende il control gun Eh, non lo so Vabbè, ma contro diversi Anche tipo contro pantheon Lei va solo di auto attack Per far danno A parte la R O tipo Fitz No, beh, Fitz E' un po' rovescia della medaglia Perché lui può schivare la R di lei E lei può schivare la Q di lui Quindi Siamo lì E' un peccato che non ha cose da ulti Una cosa, eh Eh, beh, la Q di Fitz toglie più della ulti di Fitz Serio? Che caz... Minchia Se hai la Lichman, ovviamente Vabbè E se volessi farmi la build full rabadoni Sariamo inutili come l'inferno, però Esatto E allora l'ultimate, sì che farebbe male Oh, madonna, Katarina, che cazzo No Oh, 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 pure l'ultimate storpia L'ultimate storpia sono... Diz support Oh, eeeh, distruggiamo Dio, sto mastodico Distruggiamo, distruggiamo, distruggiamo Tanca, va, vai No, aspettiamo i Minion Tanto ne mancano tre Eeeh Uh, uh, andiamo, 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 andiamo attacca la torre cosa sto facendo? di più più di così? un po' di incazzato nero bitches be crazy bitches bitches be crazy a 28 minuti la mia torre è ancora lì ancora un bel cuore vuoi vedi che ti ho attacco io? beh in dota si può si può negare una torre la distruggi tu la tua torre così non dai soldi e si lo so come si fa sui milio voglio riformare beh fotti ti beh beh così di farmi tu non ti danno niente i tuoi però non danno niente neanche loro oh caffio ho bisogno di te del tuo POC da lontano farà pure schifo ma sta andando a P ah beh allora hanno fatto del tutto schifo cioè si appiglia Vayne le scompiglie i capelli almeno ma che vedi non abbiamo tank loro sono troppo tancosi guarda bam si danno anche un po' di danni ma che vedi ma che vedi ebbene abbiamo una nidalee che stila non ha un cazzo di vita non cura mai gli altri non guarda Che vuoi che sia Ma una ward al baron Ma va Cioè almeno così Posso provare lo steal Così posso usare la ultima in mezzo E faccio anche il baron E' più facile Che fare il drago lo sai Vuoi stirare il baron Non ho capito E' più facile Guarda guarda vedi fa cagare però Comunque è Nidalee quindi Mi potrei in teoria buttare a farmi quella Anch'io No mi vedono Si mettono tutti così vicini E' già ti vedono Hanno un support che Mette da war La cosa bella Dovranno volere veramente tutti Cazzo Andiamo 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 facciamo questa No Vabbè ingaggiamo Siamo 5-4 Ti manco Ma cura me figlia di gioia Ha fatto tutto Nidalee Oltretutto eh Perché ha Uccidendo Lux Che è quella che Forse probabilmente Fa più danno Nella loro squadra Ci ha fatto fare un 5-4 Che ha fatto lei se perdendo solo Katarina Cazzo sono in supporto a meno pagina Ma cura me Ecco mi potevi curare Troia Sarà bello se fossi morto Sarebbe stato bello Non mi vuoi bene Io mi ricordo che una volta E mi trovo Con Ezreal Mi stavo inseguendo Lux Mi trovo un ulti Scappai E non ho fatto quasi la base E ne arrivo un'altra di ulti Io tipo Coldown Coldowns Che cos'è quella merda 355 di AD Ma è da bannare Sto pezzo Sto champion Ho il doppio dell'ora di carry Di AD Solo io Quanto armor penetration ho? 40% Cazzo Dovete vedere i miei danni su uno Una full combo su uno solo Ho fatto tutti i minion E il turn mi ha recuperato bene Ah beh lui ha la Sunfire Ha recuperato bene il fermo Che cazzo Era pure fermo? Ci servono un po' di cudini da lì Vedi così Così da mettere a vita bassa Quelli lì poi gli entriamo Io e Diego E io c'è Vedi così Arrivo eh Non entrare Non entrare In senso di me Forse tu non è che sono veloci Bella brutta No Nidalee Capito tutto Continua a pocare Certo 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 Se ne va Ma fai male in bot Ragazzi tranquilli Ho tutto sotto controllo Lì è una posizione davvero stupida Diego Ma una di quelle che è stupide Più di così proprio Bisogna mettersi l'impegno Perché se avessi ripiegato tutti E ci fosse stato un award lì Saresti morto Infatti forse c'era un award lì Allora c'è stato fortunato Oh oh Arrivo eh Dai in Italia abbiamo bisogno di te Complici un po' Gain e Lux E poi entriamo noi Perché siamo tutti mezzo assassini Più o meno Siamo tutti cento minuscoli in confronto a lui Ha colpito qualcuno Non l'ho sentito I puffissani Ah si ha colpito Eh carima Uh ha colpito Cosa entriamo 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 Ha colpito Vain Continuiamo Continuiamo a pushar Bella Ah no vabbè Ho toccato di un cazzo Però vabbè Se si mette lo scudo L'ho giocato di un cazzo C'è almeno il pensiero C'è Il pensiero l'ha fatto male Nida è forte per questa Perché prima di un teamfight Lei continua a farti così Poi alla fine entri E hai meno vita Vedi Per sicuramente E può curare anche gli altri In realtà Non è stata un'ottima idea Vabbè Dai che dopo quel Dopo quel baron Avrò l'infinity Non so almeno se si fa l'infinity Cioè No mettiti qua Guardi con me Ho paura Tutti su questa Tutti su questa Va bene Va bene così Va bene così Minchia Che cazzo di danno ho fatto Morendo ho fatto la double Sti cazzi Io e te abbiamo fatto l'ace Porca puttana Si sono unite le ulti Quale la mia è la? La mia È la mia anche Il tre a passo generale Hanno avuto Madonna Sono esplosi Poveracci Praticamente Non ci dimentichiamo Della mia poveracqua La tua cu È come le ulti di fiore Poi passava in mezzo Le mie ulti Esplosione atomica Abbiamo superato l'inibito Ragazzi È un re Mi sono fatto più del primo oggetto Si cazzo Adesso abbiamo i super minion In mezzo E i minion potenti Dagli altri dati E loro perderanno anche quella torre No non sono andate Vi supplico Bella partita La mia ulti Per tutto che l'ora Vai Bella partita